Voi sapete che il governo italiano ha inviato già due aerei con generi umanitari. Abbiamo attivato un ospedale sulla nave Vulcano che attualmente si trova nel porto di El Arish. Su questa nave operano anche medici catarini. Io ho portato, quando sono stata alla Coppa 28 a Dubai, dei medici, del Gaslini e del Bambin Gesù, dei pediatri per lavorare negli ospedali emiratini dove vengono curati prevalentemente bambini e donne palestinesi, è molto importante che anche su questo si continui a fare questo lavoro e che lo si continui a fare anche con le altre nazioni per lavorare insieme a una de-escalation. E chiaramente poi l'interlocuzione anche con Israele che continua da parte nostra, insomma è abbastanza costante. Dobbiamo tutti quanti con responsabilità lavorare perché questa crisi non diventi il conflitto che secondo me Hamas voleva procurare.